Buonasera ragazzi, serata Remember con Jumbo, con Manzo, con Claudia e abbiamo il nostro Principe di Villa Alta. Questo ragazzi era il Principe di Villa Alta che si buttava dal palo della cucchia. Sono andato sul palo e c'era da mangiare. Ho preso un boccone e sono andato su con un boccone. Ho andato giù, non avevo... perché respiri, quando vai giù respiri. Non fumo fuoco, vedi fuoco, non fumo fuoco, non fumo fuoco. Pagli tutto lento, gioca, mangia da nuovo. E dopo c'era da mangiare? Si, si. Però andare su col mancato un boccone in bocca? Ma no, guarda lei, con cartella. Mai più, soltanto il Principe, però quello lì dell'uccelino. Poi adesso il picchio non mi viene più con la prova. La approccio sempre, prova. Te lo ho pure dietro. No, il gesto, il gesto è bello. Grazie. Questa non la sapete. Comunque, io fino agli anni... fino allo 1800 mi sono divertito. L'unica cazzata che ho fatto è drogare. A 32 anni un po', non può mai al mondo farlo. Ma il fatto che in un anno, ho sputtanato un po' la fariera, non era quello che mi ha detto. Mi ha detto fuori di bocca e rupevo la mia madre. Tutti quelli che si trovano fa così? Le ho invece... Dopo quando mi hanno mandato i carabinieri, mi hanno mandato la sua madre. E non cosa che ho detto. Dopo quando ho cominciato a capire dove ero. Il tuo centro? Era un centro preparato di mezzo. E quello ti ha salvato? Quello mi ha salvato dall'87 a maggio fino a quasi quattro mesi. Ma è poco! Ah, io non ero trovato a cavare la semia. La semia ha provato a capire me. Come c'è la semia? Non ero trent'anni che mi facevo, ero cento e otto mesi. Io ho durato cento e otto mesi. E dopo quattro mesi, il secondo metà, eri a posto? No, non so neanche la schiena, le medicine che mi hanno mandato. Tutto, tutto, non ne visteva dalla pelle. All'estate, non sono solo indietro da mare, da viste pari e va. Allora dopo un anno, sei ritornato in gareggiata. Dopo un anno, dopo ho cominciato a lavorare. Lavoravo nel privato. Quindi sono stato via quattro mesi. Adesso non mi ricordo bene, ma essendo sotto malattia, perdevi i soldi allo stesso. Ah, ok, capito. E... Ed è assunto? No, ero sul ruolo io. Vabbè, allora. Ascolta, ma raccontaci Leo... Intanto sei in diretta qui, sei in diretta, non sei in diretta. Ti sto facendo il video, non sei in diretta. Io ho capito. Il video va su dopo. Però raccontaci di quel Madonna di Campiglio quando te c'eri nel 99, quando hanno fermato Pantani. Giusto? Ah, quando abbiamo saputo le notizie... Ah, già, davvero, davvero. Cioè, siamo, non so... Il depremo che è... L'aveva vinta... E siamo partiti alle 13 notte perché adesso... Sai, quando arrivi devi essere... Mettiti a posto col pungono niente qua. Ogni cosa. E verso le 8 e me da nuovo c'era... C'era lo speaker che dice che... Marco Pantani non parte per... Ancora non si sa bene, ma... Non parte. Non parte, non parte. Non so che mi lo fai qua. C'era... Tutiferio. C'era nei feri. Dopo, quando cominciavano a sapere che erano partiti, che passavano i corridori, ci siamo messi in mezzo alla strada. Proprio sdraiati. Sdraiati. Sdraiati tutti in mezzo alla strada. E... Dopo abbiamo dato retta... Perché siamo venuti la polizia, i carabinieri... Cioè... Non ti possono mettere male a dormire. Cercavano di convincere. Dopo... Sabini, un sacco un 20... E oggi abbiamo fatto passare il giro. Però... Non era giusto. E poi, come era stato giusto, andando avanti... Che... Dopo lui c'aveva un pochettino anche il tuo... Però... L'aveva fatto troppo grosso. Perché vinceva anche quel giro lì. Eh già. Vero? Vero Manzos? Aveva già vinto. Vero, vero. Vero farlo. Vero. Assolutamente vero. Saluta... Saluta il pubblico qui che... Io chiudo. Eh... Ciao a tutti. Alla prossima. Dal... Dal... Dal principe. Ah, ecco. Importante. È importante, è importante. E... Solo che...